Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avevamo qualche roba di recupero, avevamo un sacco di elettronica di recupero e forse avevamo costruito un robot, mi pare, ovviamente con risultati tra il divertente e il grottesco, perché poverino aveva pezzi vari non proprio uguali tra loro, quindi tendeva a camminare un po' storto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete ci sono vari tipi di schede. Chi di voi non ha mai usato Arduino? Ok, quindi ci sono schede che sono più entry level, sono schede più semplici da programmare per tutta una serie di motivi e hanno una potenza computazionale abbastanza ridotta, invece ci sono schede che hanno funzionalità particolari o sono pensate per l'intera delle cose oppure sono schede pensate per prototipare a livello di wearable. Ti passo la parola anche per parlare di tutto quello che è l'ecosistema di schede che sono nate nel frattempo intorno alle schede Arduino. Per fortuna Arduino è uno dei primi hardware open che è diventato di largo uso, largo consumo. Dico per fortuna perché questo ha permesso a un ecosistema di schede non per forza di cose Arduino, di nascere e di crescere intorno a questo sistema. In parte sono schede che vanno a completare Arduino, quindi i cosiddetti shield che sono praticamente moduli aggiuntivi che offrono funzionalità che la scheda base non ha, per esempio anche solo parlare con un bus, can, quello dell'automobile, oppure per poter collegarsi al wifi o all'ethernet, quindi per fare comunicazione via rete. E poi ovviamente ognuno ne ha sviluppato in base anche alle sue necessità. Poi ci sono anche una serie di schede che vanno a implementare quello che è il core di Arduino, quindi le funzionalità della scheda stessa, ma con un format diverso in base anche alle necessità particolari dello sviluppatore o del produttore di una particolare scheda. In parte queste sono schede che nascono come un altro tipo di scheda, per esempio la famiglia ESP, che poi sono state incluse nell'hardware Arduino proprio perché Arduino permea un po' tutto il mondo dell'open source, e quindi il passo più ovvio era supportare il software Arduino anche per questi produttori che arrivano nuovi sul mercato con l'idea di portare qualche novità nel mondo dell'IoT. Poi ci sono ovviamente tutta una serie di prodotti fatti da partner credo di Arduino perché Adafruit è sempre stata comunque un esempio di sviluppi paralleli e comunque vicini alla comunità, che sono la famiglia Fever, che sono tutta una serie di schede che oltre al Wi-Fi implementano anche protocolli diversi, ma che nascono principalmente come un prodotto Adafruit, però orientato alla comunità. In più Arduino, prendendo feedback anche dai vari utenti e soprattutto dall'andamento del mercato, ha sviluppato queste schede che sono le MKR, che supportano diverse tipologie di protocolli Wi-Fi principalmente, o wireless, e vanno a completare l'offerta Arduino, soprattutto in certi mercati dove manca o comunque non ci sono molte alternative rispetto all'hardware proprietario di chi produce magari un particolare standard. Principalmente vi parlo, salto un attimo davanti perché qua ho fatto una comparazione tra le varie schede, i player diciamo in questo ambito sono principalmente tre Arduino con la serie MKR Maker, che supporta ovviamente moduli aggiuntivi, supporta i protocolli Wi-Fi, Sigfox e LoRa, che sono due diverse implementazioni delle cosiddette low power area network, quindi la possibilità di trasmettere dati a lunga distanza, con poca potenza e con poca banda, quindi ideale per una serie di utilizzi che sono quelli dell'IoT. Poi ovviamente il GSM che ha un supporto mondiale, e il One che anche lì sono degli standard che diventano recentemente di grande uso anche per la liberazione di diverse frequenze, però principalmente sono tutte delle cose relativamente nuove nel panorama del Maker e dell'IoT e sono sicuramente molto interessanti. La Wemos che è basata su una scheda SP è un particolare prodotto, nasce da una società cinese che ne ha fatte veramente diversissime tipologie e soprattutto però nasce come ambito IoT domestico, quindi non per esterni perché supporta principalmente Wi-Fi e Bluetooth. Non ha grossissimi supporti al di fuori da questa, però supporta Arduino e diciamo il suo punto forte è un costo veramente irrisorio rispetto alle altre. Adafruit Feather invece è un modulo che supporta il Wi-Fi tramite una scheda SP, e però ha anche il supporto alle frequenze ISM, che sono quelle classiche per uso medico e civile, supporta Bluetooth, Lora, un protocollo Fona e poi i classici, anche lì, un protocollo radio NRF52, che sono tutte le varie schede Nordic. Quindi abbiamo delle offerte un po' diverse che coprono abbastanza bene tutto l'ambito della comunicazione wireless, perché alla fine principalmente l'Internet of Things ha bisogno sia di potenza di calcolo, che poi sono quelle che fanno attuatori e sensori, ma soprattutto di comunicazione, perché senza comunicazione non ci sarebbe una Internet of Things, ci sarebbero solo delle things sparse che fanno ognuna delle cose sue. Passo alla parola a Davide. Sì, riguardando queste tre schede che abbiamo identificato come notabili, diciamo, tre environment di riferimento, forse l'unico mancante che non abbiamo messo, non ci abbiamo pensato, perché nell'Arduino Day non puoi parlare di linguaggi di programmazione per microcontrollori che non siano un CPU più Arduino, però tutte le schede Pycom che montano gli ESP32, che è la nuova versione dell'ESP8266, hanno a bordo naturalmente Bluetooth e Wi-Fi, però hanno implementazioni su anche lì Lora, Sigfox e GSM, però si programmano in Python. Molti utenti maker di un livello un pochino più superiore si stanno spostando a quelle schede lì che sono leggermente più costose, però che hanno una documentazione e lavorando in Python hanno una velocità di sviluppo molto più veloce. Non ho detto una cosa corretta, nel senso non sono tanto utenti che hanno un passato con Arduino, ma sviluppatori che conoscendo molto bene il Python, ma non volendo entrare nel linguaggio Arduino, vanno su quelle schede lì perché sono programmati in Python. Questo è un trend che ha due anni, quello delle schede Pycom. Un altro elemento di grande attenzione nel mondo dell'education a livello di maker, se vogliamo, non mi viene a dire di maker perché un maker o comunque qualcuno che ha avuto esperienze di prototipazione elettronica tendenzialmente supera il modulo e si autocostruisce gli oggetti, però io per esempio che non ho avuto un percorso di ingegneria alle spalle ho tratto grandissimo beneficio dall'utilizzare moduli pre-realizzati. Ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare con Massimo e Gianluca quando lanciarono il Tinker Kit, quindi quella foto lì è una foto che venne pubblicata da Wired nel 2008-2009 e il Tinker Kit era qualcosa di molto avanti per gli anni. Per molti anni è rimasto l'unico prodotto che permetteva di avere una prototipazione rapida, veramente rapida in ambito di elettronica. poi è stato copiato da Seed che ha lanciato il Grove qualche anno dopo. Il Grove per intenderci è il prodotto che vedete sulla sinistra di Seed Studio. Tinker Kit, Kit, Smart Projects, Arduino, perché all'epoca era un prodotto che veniva sviluppato addirittura da un'azienda che si chiama Tinker, che è la sede a Londra. La filosofia è molto semplice, prendo un modulo, un sensore, che magari ha delle caratteristiche particolari di implementazione, devo metterci delle resistenze particolari, devo metterci dei condensatori di una certa potenza, lo disegno in SMD, quindi diventa molto miniaturizzato, molto più piccolo, molto più portabile, gli metto un certo pin mapping dei fili, se è un modulo che ha un sensore di quadro C o dei protocolli particolari, gli metto più fili del necessario, se no sono input analogici. E poi crea una scheda che permette di inserire dei cavi con un certo pin mapping che permettono al microcontrollore di leggere questi dati. Questa è una scommessa educativa e, se vogliamo, anche professionale che hanno cavalcato in tantissimi da allora. Queste sono le esperienze che mi va di citare, ma in realtà ci sono dei colossi, per esempio c'è Fidgets, Fidgets è un colosso americano che non è open source e non è compatibile con l'Arduino, o meglio, si può provare ad attaccare l'Arduino i suoi sensori, ha un suo, qualcuno ha mai visto parlare di Fidgets? No? Ok, wow. Ha un suo hardware proprietario che si integra con Scratch e viene utilizzato in non so quante centinaia di scuole americane, le prese Fidgets hanno l'Ethernet, usano un Ethernet, molto simile a quella che ha la presa che ha il Lego Mindstorm. Grazie, sì. E quindi, negli anni TinkerKit, Seed Studio, poi abbiamo Gravity, Grove, che è, scusate, Gravity di DF Robot, che è un'altra azienda di cinesi folli, che però invece hanno dei sensori molto interessanti, molto molto interessanti. Contrariamente a quando uno potrebbe pensare, questo tentativo del modulare non è mai stato inseguito da Fruitto, da Sparkfun, che hanno sempre preferito rilasciare delle schedine che poi uno si doveva saldare e attaccare per conto suo. Vai pure avanti, cosa c'è adesso? Ok, cosa c'entra tutta questa bella storia con la domotica? Secondo me la risposta è che negli anni, visto che comunque io e lui ci conosciamo credo ormai da dieci anni, negli anni, e abbiamo già una certa età, negli anni lui adesso si è comprato la casa, la mia compagna si è comprata la casa, poi abbiamo aperto un progetto che si chiama Casa Giasmina, uno dice va bene, basta fare le minchiatine sul tavolo che fai il progettino della nuvola o del prodottino del cartone animato che si disegna da solo, che sono due progetti che abbiamo portato oggi, ci sono case da connettere, da costruire, no? E quindi alla luce di questo abbiamo deciso, basta quest'anno portiamo un progetto, cioè portiamo l'idea di domotica e di casa. Vai un po', vai avanti? Alcuni di voi conosceranno, abbiamo un progetto di, come officina in Nesta, abbiamo un progetto di ricerca nel mondo della domotica che si chiama Casa Giasmina, dove testiamo queste tecnologie, chi di voi, forse abbiamo un rappresentante della comunità dei Magic Mandy, ci incontriamo una volta al mese di lunedì, adesso per fare delle presentazioni, ma anche per fare dei progetti, la casa in realtà non ha un orario di apertura, è affittabile su Airbnb, però il modo migliore per entrare in questa community è venire, tra due settimane c'è il prossimo Magic Monday, sulla privacy e sulla sicurezza delle reti, diciamo, ecco, delle reti domestiche. Grazie. E quindi è molto pertinente in realtà, perché, come domanda, perché la casa? Perché in Italia non è ancora arrivata questa onda, però in Germania, in Olanda e in Francia sono già arrivati Google Home e Alexa e in generale anche in Italia. La casa tua è connessa? È connesso a qualcosa? Ho portato qui un po' di cose connesse, ma che non sono per forza di cose IoT, quindi l'orologio e la nuvola sono parte delle mie IoT di casa, però adesso volevo lavorare su smontare e smontare un po' di accessi, soprattutto, quindi permettere l'apertura del portone via comando remoto, visto che c'è già il pulsante, basterebbe mettergli un relais, un po' di altre cose per facilitare gli accessi, per esempio. La domanda la faccio anche a voi. Qualcuno di voi ha cercato di domotizzare casa con strumenti tipo Netatmo, che è venduto in Italia, lo trovate dall'Aromerland, piuttosto che sistemi di videosorveglianza. Alle mie spalle ci sono dei, come li potremmo chiamare, serverini, prodotti, serverini che si mettono all'interno della casa e permettono di, in qualche modo, controllare. Nessuno di voi. In Italia non è ancora partito questo trend. Molto facile che non parta mai, in realtà, o comunque che parta col freno a mano tirato. Il tema è veramente rilevante. Io lavoro in questo ambito ormai da tre anni, quattro anni, e ho fatto tutta una serie di ricerche nell'ambito della sicurezza domotica. e, per esempio, molti di quei prodotti lì non implementano le più basilari regole di sicurezza. Quindi è molto facile per una persona, cioè per un hacker, o per un malintenzionato, non definiamolo neanche hacker, sfruttare questi bacchi per introdursi in casa. Non solo, più avremo in casa dei microfoni attivi, più è l'ultimo trend, ma questo ieri l'ho letto sul Washington Post, no, sul New York Times, questo termine che fra un po' lo sentiremo più spesso, Dolphin Attack, che è praticamente quando ci sono due gruppi di ricercatori, uno cinese e uno americano, che sono riusciti a mandare dei comandi ai dispositivi tipo Android, tipo Alexa, tipo Google Home, su delle frequenze che non sono udibili a noi, se non sentendo proprio dei brusii, anche dentro canzoni, anche dentro canzoni su YouTube, oppure dentro a fischi, dentro a rumori, e sono, diciamo, attacchi che utilizzano le frequenze audio per far succedere le robe a casa tua. Non so se vi ricordate quando Burger King, è una roba che è avvenuta solo in America, l'avremmo forse sentita o vista su Facebook, Burger King ha fatto una pubblicità per cui ha preso una multa salatissima durante il Super Bowl, esattamente, sai cosa era successo? Vuoi raccontarlo tu? Sì, mi ricordo un po'. Ah, ok, no, faccio... Praticamente il tipo che parla nel televisore di non so di quanti milioni di americani che stavano guardando il Super Bowl, dice, ok Google, dimmi che cos'è un Whopper, attivando, ovviamente di una piccola parte, non tutti gli americani hanno un Google Home oppure uno smartphone che fosse sbloccato in quel momento, a cui hai... e quindi, ecco sì, appunto, attivò, e per questo il gran giurì della pubblicità americano ha fatto causa a Burger King, che Burger King però, oltre a quello, ha avuto un'idea geniale di marketing, ancora adesso ne stiamo parlando, e soprattutto ha fatto vedere un buco grande, con grandezze siderali della sicurezza di questi dispositivi. Domanda? Comunque, questo articolo qua è molto interessante perché parla anche del fenomeno di prodotti che utilizzano cocaine noodles, perché cocaine noodles, cioè i spaghetti alla cocaina e ha lo stesso morfema, la stessa forma audio di Ok Google e quindi viene utilizzato spessissimo. Sì. Un altro trend molto figo che non potevamo non mettere qua in questa slide non terminata, credo, è prodotti che hanno dentro i prodotti di cui parlavamo prima. Quindi adesso ci sono dei prodotti tipo tutti i prodotti della Sonoff, prodotti da itead.cc oppure prodotti prodotti da Maker tipo quello schermetto di paper che vedete alle mie spalle che hanno dentro dei chip e i produttori documentano come hackerare i prodotti. Quindi ti arriva sta presa che è attaccabile dal wifi utilizzando una app cinese e mandando tutto in un cloud cinese ma loro dicono capisco che non vuoi che i tuoi dati vadano in Cina ogni volta che devi accendere o spegnere la luce se vuoi puoi riflessiartelo tu e attaccarlo a per esempio Home Assistant. Questi sono tre software che vengono utilizzati molto per la domotica per la domotica fai da te uno è Home Assistant di cui io faccio uso abbastanza forte da un po' di anni un altro non l'ho mai usato e Open Hub vorrei approfondirlo un altro l'ho usicchiato ed è un pochino più ingegneristico anche se visivamente interessante perché la programmazione avviene a livello visivo si chiama NoDread tu hai usato NoDread? Sì ho avuto qualche esperienza anche io devo dire che dal punto di vista di chi è un po' diciamo la figura dello smanettone quello che piace un po' toccare le cose è molto molto bello non è un prodotto diciamo che io suggerirei a una persona che è alle prime armi per esempio Home Assistant da quel punto di vista forse è un po' più un po' più adatto però NoDread ha comunque una sua una sua nicchia e secondo me vedremo tra un po' delle implementazioni standard in cui tu vai a prenderti magari dei pezzi da aggiungere al tuo al tuo server domotico fatti da altri quindi come succede nel software come succede con le librerie di tutto tutti gli sviluppi non serve che tu te li facci a casa semplicemente te li prendi e te lo porti lo configuri con due parametri e quindi è già è già completo così avanti oppure ah ok ok si avevo messo qua una slide principalmente perché tutte queste tutte queste cose si basano su degli strati sottostanti sono principalmente dei protocolli di comunicazione quindi è una slide un po' tecnica ma mi piaceva anche far vedere un po' quello che ci sta sotto perché tutto quello che noi usiamo normalmente si parla attraverso IoT quindi MQTT che è Message Queue Telemetry Transport e REST che è il classico REST Representation Straight Transfer che sono REST è molto noto per chi fa web o comunque chi conosce il mondo di internet quello diciamo degli ultimi vent'anni forse MQTT nasce un po' più recentemente principalmente perché sviluppa una serie di chiamate molto più un po' più a basso livello di REST e permette un protocollo più snello che nel caso dell'IoT diciamo è evoluto come risultato perché è diciamo molto più snello e più leggero quindi anche i device che lo implementano da quel punto di vista non hanno bisogno di grosse risorse per farlo funzionare sono due cose abbastanza complementari perché REST è un sistema client server quindi si parla ogni device è un client che parla un server centrale oppure ogni device può essere un server e quindi viene chiamato a sua volta ha un'interfaccia abbastanza uniforme con le classiche chiamate HTML get put post delete quindi sono queste le quattro principali cose che puoi fare con REST basato su HTTP quindi anche la sicurezza deriva diciamo da questo layer del protocollo HTTP con HTTPS principalmente e quindi è uno dei più comunemente usati su servizi e soprattutto API web quindi già molti produttori di sistemi per la domotica implementano delle API REST e quindi esportano in certi modi il loro device o i loro servizi tramite API REST quindi da quel punto di vista è molto presente ed è facile che ci sia un API REST da chiamare se vogliamo implementare il nostro device IoT MQTT invece come dicevo è abbastanza giovane come protocollo è un publish and subscribe quindi i device hanno un canale continuo di comunicazione sono sempre connessi con il broker che è l'intermediario di questo protocollo la cosa interessante è che se nel REST il principale modo di comunicare è tra cliente e server cliente e server in questo caso un subscriber di un diciamo di una coda MQTT può anche ricevere messaggi in tempo reale oltre che mandarli quindi la comunicazione è a due vie non c'è solo la richiesta verso il server e basta quindi io se devo fare se devo ricevere un messaggio devo sempre fare polling oppure long polling verso il server è basato su TCP quindi il protocollo più basso e implemento ovviamente anche lì un livello di sicurezza anche qui ci sono adesso dei nuovi produttori che oltre alle API REST che sono praticamente sempre presenti implementano anche delle code MQTT proprio perché vedono che c'è un grosso interesse dal punto di vista dell'utilizzo su questo protocollo qui qua abbiamo poi quello che si parlava prima un po' anche quindi adesso abbiamo parlato principalmente di cose fai da te o comunque soluzioni in cui il maker si sviluppa il suo si sviluppa le sue device e si costruisce le cose in casa però per fortuna o chi lo sa se è così dovrei esserlo apri un tab aspetta in realtà il nostro tempo sta lentamente finendo volevo far vedere un esempio non so cosa ho fatto con il browser ho fatto F11 no probabilmente è finito da qualche parte la finestra ho distrutto tutto no non importa vabbè era l'ultima slide si vedevano un po' di varie no volevo farvi vedere sì ecco torna qua volevo farvi vedere i componenti ci sono per esempio i prodotti che ha messo la Intel in quella slide lì per esempio se andiamo a vedere quanti di quei prodotti lì sono integrabili dentro oh sì sono integrabili dentro Home Assistant Home Assistant che è uscito oggi con la versione 62 0.62 dalla PyCon 2018 Home Assistant scritto in Python è arrivato al numero abbastanza alto di componenti che è 1069 diversi componenti tra cui troviamo tutti i prodotti che ha messo anche nella slide precedente quindi se compriamo un prodotto alcuni prodotti italiani o francesi non ci sono ancora tipo Somfi che è un prodotto che trovate all'Erua Merlin per fare automazione domotica non è ancora stato integrato su Home Assistant ma ci sono un sacco di prodotti potete anche scorrerli per funzionalità e invece che per prodotto per brand quindi questi sono tutti per esempio le modalità che avete per attaccare la voce a casa vostra utilizzando Home Assistant la nostra presentazione che termina qua nel senso che non è ancora venuto nessuno a dirci avete ancora un minuto però stiamo andando un po' alla fine noi abbiamo portato un piccolo una piccola Raspberry Pi con sopra installato una versione di Home Assistant molto facile diciamo la versione più noob che si chiama HES.io se volete venire a vedere alcune funzionalità base giusto a vedere come funziona di cosa stiamo parlando potete venire giù nello spazio che stiamo condividendo con il look di Pinerolo e ci facciamo due parole per approfondire se avete le domande per Enkel che è molto tecnico molto bravo a raccontare appunto gli stack a me che sono invece più uno storyteller che è la meno un po' per l'AIA potete anche farle adesso credo che ci diano ancora qualche minuto grazie a tutti